Bene, salve ragazzi, qui è il follow the tube e non urlo perché sono comunque in mezzo al nulla dei vari terrazzi di casa sperduti come sempre e ho trovato questo, sì, tappetino da mago perché il follow è un ex mago comunque, chi di voi aveva quest'album? Ragazzi, mi mancavano solo due dannate carte vediamo, misterio, passano le macchine ma è ovvio, siamo su un terrazzo guardate quanto dannatamente era bello quest'album Alpugan, brillante chi cazzo è Antonio? Non ne ho idea, però guardate, era davvero bellissimo, voi ce lo avevate? Mamma mia Eccolo, Road Warrior Animal, Enunzio le uniche due carte che mi mancavano Thank you, take out Ops, il libelligine ha deciso di uscire dalla sua zona, però va bene anche alla zona leggende, era fatto da dio quest'album, era fatto fantastica e poi evitiamo Stacy, qui non si può vedere era un album fantastico, addirittura le checklist erano nell'album bene, voi avevate quest'album? oppure fatemi sapere, se trovate mai ricordi quali, perché, quali album, quale carta vi mancava a me, Enunzio e Road Warrior Animal mamma mia un video un po' così